Giovanna Civitillo si è fatta sentire e ha preso le difese del suo uomo, Amadeus, con parole che sprigionano orgoglio e amore Giovanna Civitillo si fa avanti. Parlo io ora. La showgirl non ha nascosto la sua ammirazione per il marito e ha espresso apertamente il suo sostegno in un momento di grandi cambiamenti per il celebre presentatore Sono troppo orgogliosa di essere la moglie di una brava persona, ha detto Giovanna, mostrando al mondo quanto sia fiera di lui Amadeus cambia casa e si unisce a Discovery, lasciando dietro di sé la Rai, la rete che ha ospitato le sue performance più acclamate Giovanna Civitillo non ne può più e difende il marito Amadeus. Le sue parole cambiano tutto Nonostante l'addio sia stato carico di emozione, sembra che Amadeus abbia ora trovato un luogo dove poter esprimersi con maggiore libertà Quest'autunno, infatti, debutterà sul canale 9, e si impegnerà a sviluppare nuovi formati di intrattenimento insieme al team senior di Warner Bros Le parole scelte con cura per difendere Amadeus. Per un periodo, Giovanna Civitillo ha preferito il silenzio Anche se ha condiviso il video realizzato dal marito su Instagram, non ha aggiunto commenti personali Tuttavia, non ha potuto ignorare le voci che si rincorrevano, alcune delle quali suggerivano una sua insoddisfazione verso la Rai per non averle offerto un proprio show Ma è stato un video tributo a dare a Giovanna l'opportunità di schierarsi apertamente al fianco di Amadeus Che bello questo video, grazie! Con sincerità devo ammettere che mi sono commossa! ha esclamato Scagliando via ogni dubbio sul suo sostegno incondizionato verso il marito Giovanna Civitillo non ne può più e difende il marito Amadeus Le sue parole cambiano tutto Le critiche possono essere feroci E alcune hanno addirittura etichettato Amadeus come Ridicolo Per aver lasciato la Rai Ma Giovanna ha una visione chiara Per lei Amadeus è prima di tutto un bravuomo E questo è ciò che conta davvero Amedeo Umberto Rita Sebastiani È un bravuomo Ha affermato Ponendo l'accento sulla persona che è al di là del professionista Elena Sofia Ricci condivide questo punto di vista Anche l'attrice ha voluto dire la sua sua Amadeus Descrivendolo con parole calde e affettuose Esatto Una persona per bene Umile Appassionato Rispettoso del lavoro altrui Super professionale e preparato Autoironico Istrionico Così da sempre E da sempre desideroso di evolvere Di esplorare Come spesso fanno gli artisti Sempre con te ama Sempre con voi Vически Visi Visi Visi